Conclusione di questo corso nel quarto modulo, proviamo a ragionare insieme sul concetto di integrità ed etica pubblica, che se volete non lo guarderei tanto come uno strumento, quanto una sorta di condizione abilitante a favorire l'accountabilità, la trasparenza, la buona amministrazione, vista come sorta di contrasto alla mala amministrazione e alla cattiva amministrazione. L'idea è di riprendere più o meno i contenuti di questo quarto modulo, cioè quello che avete avuto modo di vedere durante la scorsa settimana, e di ragionare insieme su che cosa si tratta quando parliamo di regole di condotta, è una cosa magari non scontata, quindi poteva essere utile quantomeno partire con questo seminario online ragionando insieme su una serie di definizioni e provare ancora una volta a condividere di che cosa si sta parlando e com'è che può funzionare. Poi guardiamo in maniera un po' più dettagliata quelli che sono gli strumenti che la pubblica amministrazione ha, la pubblica amministrazione italiana ha a disposizione e a sua disposizione per rendere più forte la propria azione di trasparenza, di lotta alla corruzione, di prevenzione della corruzione. Sostanzialmente si tratta di, come dice bene ANAC, di andare a individuare quelli che sono i cosiddetti coni d'ombra nell'organizzazione pubblica e provare a illuminarli, provare a darli più luce attraverso gli strumenti che vedremo insieme. Quindi il piano nazionale anticorruzione, il piano triannale di prevenzione della corruzione che ogni pubblica amministrazione deve attuare, il codice di comportamento che ancora una volta è qualcosa di non direttamente collegato ma che sta intorno alle iniziative anticorruzione portate avanti da ANAC e rilanciate dalle varie figure di riferimento per la pubblica amministrazione italiana sul tema della trasparenza. Infine proviamo a vedere un po' più da vicino due strumenti, uno tipico del piano triannale per la protezione dell'anticorruzione che è il whistleblower e invece uno strumento recente, almeno per l'ordinamento normativo italiano, si chiama FOIA, dà il diritto d'accesso ai documenti, ai database, ai dataset sviluppati dalla pubblica amministrazione. Vedremo un po' meglio di che cosa si tratta e soprattutto in quale modo si collega al tema della trasparenza, dell'accesso ai dati, alle informazioni della pubblica amministrazione. Regole. Oggi parliamo soprattutto di regole, parliamo di regole scritte e di regole che non possono essere scritte, quindi parliamo di qualcosa che può essere fortemente normato da un lato, però allo stesso tempo riuscire a normare tutto, riuscire a dare una definizione di legge, di tutta la casistica dei mille casi in cui ci possa essere ambiguità sull'applicazione di una norma, ci possa essere ambiguità su come svolgere il proprio compito all'interno, nel momento in cui un dipendente pubblico, un dirigente pubblico porta avanti il proprio lavoro all'interno della pubblica amministrazione, è particolarmente complicato. Noi parliamo di regole, nel momento in cui queste regole sono scritte, sono approvate attraverso un iter legislativo, possiamo parlare di norme e in questo caso la questione è piuttosto chiara, nel senso io so quello che devo fare perché me lo dice la legge come dipendente pubblico. Però, come vi dicevo, non tutto può essere normato, è fondamentalmente impossibile provare a normare la casistica generale delle mille modi in cui un'ambiguità può dare vita a corruzione, piuttosto che un atteggiamento non chiaro può dare vita a mal'amministrazione. Quindi, piuttosto che parlare di norme in maniera, cioè, come dire, con una definizione di norme siamo più o meno d'accordo tutti, però in questo caso forse può essere più interessante ragionare insieme in termini di condotta, cioè, com'è che un dipendente pubblico si comporta nel momento in cui la norma non disciplina perfettamente la situazione in cui si trova. E questo, se volete, è l'aspetto più ambiguo, a mio avviso è anche quello più affascinante, cioè, come un dipendente pubblico, come una pubblica amministrazione si deve comportare nel momento in cui non è perfettamente regolata la situazione in cui si trova. Per ragionare meglio insieme su che cosa significa, io mi rifaccio a questo schemino, fatto davvero molto bene, dal professor Luciano Inna, che è un, praticamente uno dei massimi esperti italiani in tema di corruzione, nonché la persona di riferimento per quella che una volta si chiamava la Civit, poi nel tempo si è evoluta in A, nell'attuale ANAC, nell'Autorità Nazionale di Anticorruzione, e Inna lo spiegava bene, nel senso, mettendo in ascesse coordinate la condotta da un lato e le norme dall'altro. Vedete, ogni volta che si trova una situazione di questo tipo, quindi qualcosa che sta qui sotto, qualcosa che è regolato per legge, noi sappiamo che dobbiamo farlo. Se non lo facciamo così, come è descritto dalla legge, incorriamo in un processo civile, in un processo penale, in una corte dei conti che interviene in qualche maniera sana, in una situazione ambigua, però, come dire, ci rifacciamo a un codice, ci rifacciamo alle regole e quindi sappiamo come comportarci, nel bene o nel male. Diventa invece più complicato, più arduo, ed è quello che, se volete, è l'oggetto della chiacchierata che ci facciamo insieme questa mattina, nel momento in cui non è tutto perfettamente esigibile per legge, non è tutto normato, e quindi subentra il concetto, la cosa di cui parliamo oggi, dell'etica del dipendente pubblico, che sostanzialmente risponde alla domanda come mi devo comportare in questa situazione, qual è la cosa migliore da fare, non sempre tutto questo, come dicevamo all'inizio, può essere normato per legge. In letteratura questa cosa viene nominata come dilemma etico, cioè non so come comportarmi, quindi devo decidere. Una definizione aderente al concetto di diametrico è quella che vi ho riportato nella slide, cioè è una decisione tra principi concorrenti, dove la complessità della decisione è molto alta, quindi è difficile riuscire ad avere una situazione perfettamente piana, come spesso viene definita dalle regole, ma molto più ingarbugliata, subentrano molti più elementi che rendono difficile riuscire a prendere la giusta decisione, e soprattutto in questi casi questa cosa viene esasperata attraverso la responsabilità, nel momento in cui il dipendente pubblico che si trova di fronte al cosiddetto dilemma etico spesso è gravato da una forte responsabilità e quindi la sua scelta, il suo decidere come andare avanti avrà delle ricadute, in questo caso la situazione diventa ancora più sostanziale e ancora più difficile da gestire. L'autorità nazionale per l'anticorruzione sostanzialmente dice che è giusto aggire attraverso, cioè semplificando, insomma per rendere questa cosa un po' più semplice, e il problema di diametrico può essere aggredito attraverso due tipologie di approcci, un approccio basato sulle regole che quindi, e vedremo più avanti di che cosa si tratta, Caterina giustamente dice, ma i principi concorrenti hanno una priorità, beh spesso proprio perché sono concorrenti hanno una priorità simile, magari vedremo qualche esempio più avanti, quindi diventa difficile anche riuscire a orientarsi tra qual è la priorità più alta, proviamo a ragionarci insieme più avanti, come vi dicevo due approcci, uno basato sostanzialmente sulle regole, cioè norma molto, facciamo molte regole in maniera tale che con i d'ombra, come abbiamo definito all'inizio, riprendendo la definizione di ANAC, diventino più chiari, si faccia luce, quindi in questo caso il dipendente pubblico, la parola chiave diventa conformità e il dipendente pubblico può essere conforme alle regole in maniera tale che anche nel momento in cui si dovesse trovare di fronte a principi concorrenti con priorità simili, sa come almeno la normativa aiuta a priorizzare, tornando alla domanda che era arrivata un attimo fa via chat. Altro elemento utile a aggredire il tema della corruzione all'interno della pubblica amministrazione a superare il concetto di maniera amministrazione è l'abbraccio invece basato sui valori, in cui racconto, mi prendo cura dei dipendenti pubblici attraverso la formazione, attraverso la divulgazione dei temi di questo tipo, attraverso una serie di contorni interni, attraverso delle figure che sono all'interno della pubblica amministrazione e che sono deputate a sciogliere situazioni ambigue di questo tipo e quindi mi baso su un approccio basato più sui valori che dovrebbero caratterizzare un dipendente pubblico. In questo caso la parola chiave è comprensione, cioè provo a comprendere la circostanza in cui questa cosa sta avvenendo in maniera tale da poterla ricondurre a una situazione più chiara e quindi in qualche maniera rifarmi a quelle norme che sono già scritte. Sono due approcci concorrenti, vanno bene entrambi, spesso vengono attuati in maniera concomitante e vedremo un po' meglio in quali modalità. Io per raccontarvi questa cosa volevo innanzitutto suggerirvi un riferimento che è utile, che è questo qui, è un sito che si chiama spazioetico.com, è mantenuto tra gli altri da Massimo Di Rienzo che è la persona che ci ha aiutato, che ha aiutato il format nella definizione dei contenuti di questo quarto modulo nonché la persona che ha scritto buona parte dei contenuti del Learning Object che avete avuto modo di vedere. E quindi Massimo Di Rienzo è le persone che ruotano intorno a questo blog e si occupano in maniera diretta di questi temi quindi sicuramente un ottimo punto di partenza per chiunque volesse approfondire il tema del DM etico e più in generale della trasparenza e dell'anticorruzione all'interno della pubblica amministrazione. Proviamo a vedere gli strumenti, proviamo a vedere quali sono gli strumenti di cui la pubblica amministrazione si sta dotando e si è dotata negli ultimi anni per provare a combattere il problema della corruzione per provare ad attuare delle misure organiche di lotta alla corruzione. Il primo tra questi, come dire, lo studento Prince, lo studento Cardin, la cosa a cui si guarda prima di qualunque altra è certamente il piano nazionale dell'anticorruzione. È un piano, come diceva la parola stessa, che si attua su tutto il territorio nazionale. È scritto, mantenuto e aggiornato dall'autorità nazionale per l'anticorruzione, l'ANAC di Raffaele Cantone. E che cos'è di che cosa si tratta? Non so se vi è mai capitato di darci un'occhiata oppure non so se mai vi è capitato direttamente di lavorarci all'interno delle pubbliche amministrazioni in cui lavorate e magari vi è capitato di dover lavorare sul piano triennale dell'anticorruzione e quindi andare a guardare quello che dice il piano nazionale. Però di fatto si tratta di un modello. Cioè sostanzialmente ANAC qui dà una serie di indirizzi, una serie di definizioni effettivamente utili, di una serie di strumenti attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono prendere questo modello e contestualizzarlo all'interno della propria organizzazione. Quindi è una sorta di vestito che deve essere adattato di volta in volta a quelle che sono le esigenze particolari delle singole pubbliche amministrazioni che lo stanno attuando. Ci sono anche qui sostanzialmente due tipi di misure, almeno ANAC individua, due tipi di misure che sono all'interno del piano nazionale dell'anticorruzione e sono le cosiddette misure di prevenzione oggettiva che riducono gli spazi per la corruzione, di ipotetica insediamento della corruzione all'interno delle pubbliche amministrazioni e misure di prevenzione soggettiva che mirano, come dice la definizione, a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipa. L'imparzialità è una delle parole chiavi, significa che l'anticorruzione, la lotta alla corruzione si basa soprattutto su un principio di imparzialità e uno dei principi cardine cioè significa non favorire un soggetto piuttosto che un altro una sorta di atteggiamento perso della pubblica amministrazione rispetto al modo di procedere queste cose diventano un po' più chiare più avanti quando facciamo un po' di esempi. Alcune figure chiave individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione e proviamo a vederle una dopo l'altra molto rapidamente La figura cardine, su cui ruota il concetto di anticorruzione all'interno della pubblica amministrazione nella visione di ANAC, soprattutto nella visione data all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione è responsabile della prevenzione della corruzione non stiamo qui a definire esattamente che cos'è o quantomeno non stiamo qui a definire quali sono le caratteristiche principali della figura perché altrimenti ci perdiamo però credo che la cosa importante da sottolineare rispetto alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione è che è una figura nominata è una figura che ha una responsabilità oggettiva rispetto al modo in cui queste regole vengono applicate all'interno della pubblica amministrazione è una sorta di orientamento che il registratore ha negli ultimi anni ne abbiamo parlato in maniera molto rapida durante gli altri webinar mentre è una cosa che stiamo affrontando direttamente in un altro progetto portato avanti la Format secondo me qui chiedo a Gianluca Antonella di mettere un link adesso stiamo lavorando su dei webinar il primo è andato in onda la scorsa settimana dedicato proprio a queste figure di responsabilità interna della pubblica amministrazione anche il codice dell'amministrazione digitale ad esempio ragiona attraverso lo stesso principio cioè nominare all'interno della pubblica amministrazione un responsabile della transizione digitale cioè una figura che come dire anche sulla base di un percorso proprio anche sulla base di caratteristiche proprie sulla base di proprie professionalità è in grado di attuare queste regole è in grado di renderle materia quotidiana all'interno della pubblica amministrazione e se ne prende carico in questo caso il piano nazionale di anticorruzione ragiona allo stesso modo del CAD e allo stesso modo del regolamento europeo in maniera di protezione dei dati personali cioè si nomina qualcuno che all'interno della pubblica amministrazione ha questa specifica responsabilità e si prende in carico questa politica pubblica altra figura interessante su cui vale la pena ragionare insieme sono i cosiddetti organismi indipendenti di valutazione o AIV cioè organismi terzi rispetto all'amministrazione in cui potrebbe avvenire il caso di ambiguità in cui potrebbe avvenire un caso di malamministrazione o di corruzione che possono osservare dall'esterno quindi con occhio terzo quello che sta avvenendo e dare una propria opinione magari anche attraverso degli interventi programmati semestrali, annuali o qualcosa di simile e se ci riflettete in qualche modo abbiamo già parlato nei webinar precedenti e anche nei moduli precedenti a proposito di Open Government Partnership e di Independent Reporting Mechanism che è il meccanismo di report indipendente di cui Open Government Partnership si è dotata proprio per monitorare in maniera oggettiva in maniera quanto meno compromessa possibile il modo in cui i piani nazionali di Open Government vanno avanti ai singoli paesi vi volevo sottolineare che nel caso di Open Government Partnership è emblematico nel senso che il fatto che sia una figura terza è di garanzia sia rispetto al paese che sta attuando il piano Open Government Partnership sia rispetto a Open Government Partnership stessa che ad esempio potrebbe avere nei propri obiettivi la buona riuscita dei singoli piani quindi in questo caso è come se tutti i soggetti coinvolti da una politica pubblica facessero un passo indietro e lasciassero a qualcun altro la responsabilità di decidere di dare un'opinione fondata un'opinione ragionata su quello che sta succedendo quindi la valutazione che dovrebbe venire fuori da un meccanismo indipendente o quantomeno da un qualunque organismo indipendente di valutazione dovrebbe essere assolutamente terza rispetto alla politica che si sta attuando questo è il valore grosso e quindi anche la possibilità che questi soggetti vengano davvero messi nelle condizioni di poterlo fare qui il meccanismo di accountability è molto forte è perfettamente in asse rispetto ai contenuti di questo corso altro strumento individuato da ANAC per la buona riuscita dei piani nazionali anticorruzione è la rotazione del personale che cosa significa? nel momento in cui un dipendente pubblico occupa la stessa posizione per molto molto tempo aumenta la possibilità che si adagi su quella posizione e che subentrino dei meccanismi collaudati di cattiva gestione la rotazione del personale è una formula di garanzia non assolutamente oggettiva però in qualche modo serve a scardinare eventuali dinamiche che possono andarsi a creare e quindi in qualche maniera prevenire perché di questo che stiamo parlando ipotetici episodi di corruzione altro strumento individuato nel piano nazionale anticorruzione è il whistleblowing i cosiddetti associatori di frischietti però su questo mi blocco subito perché ci dedichiamo una parte più ampia più avanti in questo seminale che stiamo facendo insieme l'autorità nazionale anticorruzione come vi dicevo ha la responsabilità di definire il piano nazionale anticorruzione di aggiornarlo a carenza più o meno annuale io soprattutto vi invito a dare un'occhiata al piano al pdf poi magari vi metto il link perché a me piace anche molto il modo in cui è fatto cioè nel senso ha una prima parte dove più o meno vengono date delle definizioni vengono individuate gli strumenti come vi ho detto finora e invece una seconda parte dove vengono passate in rassegna tutte le tipologie di enti pubblici in cui il piano nazionale anticorruzione deve essere adattato vi ricordo che stiamo parlando di un modello che deve essere di volta in volta adattato dalle singole amministrazioni all'interno delle proprie organizzazioni passiamo in rassegna molto rapidamente certamente il primo obiettivo per i primi soggetti che devono fare proprio un piano di enti pubblica anticorruzione basandolo sul piano nazionale anticorruzione sono i piccoli comuni 8100 rotti comuni in Italia molti dei quali sono dimensioni piccole e quindi è indispensabile ragionare in termini pubblici e amministrazioni nel suo complesso che innanzitutto siano i piccoli comuni a esprimere un proprio piano anticorruzione su questo vi dico che non è facile nel senso che poi vedremo meglio com'è che funziona però scrivere un piano triannale anticorruzione non è proprio una cosa semplicissima quindi è uno sforzo importante quello che viene chiesto ai piccoli comuni in questo caso magari è un po' più leggero perché dotati di un personale più ampio l'adattamento del piano nazionale anticorruzione all'interno delle città metropolitane altro soggetto individuato da ANAC che deve applicare all'interno della propria organizzazione le misure di anticorruzione previste dal piano nazionale poi ci sono gli organi collegiali e professionali che a loro volta non fanno eccezione rispetto al dover dotarsi di regole sull'anticorruzione le istituzioni scolastiche e qui vi lascio immaginare che parliamo di tutte le scuole ed è un luogo in cui è molto facile se volete che avvengano momenti di ambiguità se non tanto di corruzione quanto di ambiguità quanto di non capire bene come procedere immagino, non lo so io sono cresciuto in un paese piccolo accade molto di frequente che in un posto piccolo come dire il professore abbia in aula un proprio parente un figlio di un proprio amico nei luoghi piccoli accade molto di frequente quindi in questo caso è utile quantomeno provare a ragionare come comportarsi in maniera tale da adottare le misure migliori e non incappare in momenti di dilemmi etici tipo quelli che dicevamo prima la tutela e la valorizzazione dei beni culturali certamente ha un impatto importante sulla corruzione e quindi a loro volta gli istituti che presidiano questo tema devono adottarsi di regole interne il governo del territorio è estremamente importante rispetto al tema dell'anticorruzione anche qui ragionando soprattutto in termini di luoghi piccoli ma anche grandi se volete immaginiamo la situazione in cui un architetto comunale deve decidere se un terreno nel prossimo piano di zona deve diventare edificabile o meno stiamo parlando di fortissimi interessi fortissimi interessi economici fortissime mutazioni sociali che dipendono dal modo in cui il governo del territorio viene gestito quindi in questo caso è assolutamente indispensabile che chi se ne occupa non si trovi in situazioni di ambiguità non si trovi in situazioni ambigue rispetto alla possibilità di prendere una scelta piuttosto che un'altra è estremamente importante in questo caso non armare bene quello che può accadere indispensabile poi ultimo anzi se andate a guardare l'indice del piano nazionale anticorruzione vedete che per questi soggetti per tutti i soggetti che abbiamo visto finora sono dedicate una serie di pagine poi si arriva alla sanità che è un blocco notevolissimo in questo caso vi lascio immaginare è direttamente proporzionale alla quantità di soldi che vengono gestiti dal settore della sanità ovviamente dove più c'è spesa più è probabile che avvenga la legge dei grandi numeri insomma per una questione di stati sì è probabile che possano avvenire situazioni di ambiguità normativa situazioni di malamministrazione e di corruzione quindi in questo caso gli istituti sanitari certamente devono essere pronti nel momento in cui gli si chiede di fare un sforzo particolare sul tema dell'anticorruzione non è un caso ad esempio che le ASL da quello che mi è capito di vedere negli ultimi anni come dire siano i soggetti che abbiano reagito con maggiore riflesso rispetto alle richieste di ANAC proprio perché loro forte interesse ad adotarsi di un regolamento interno che in qualche maniera riesca a sciogliere questioni di ambiguità rispetto al piano nazionale anticorruzione rispetto al suo adattamento sui territori attraverso il piano triennale che vediamo subito l'ANAC sostanzialmente può fare due cose da un lato ha una responsabilità e un potere di vigilanza nel momento in cui questi piani vengono fatti male l'ANAC in qualche maniera può andare a bussare alla porta del dipendente pubblico dell'organizzazione pubblica che è male adattato i principi del PG del piano nazionale anticorruzione all'interno del proprio piano triennale anticorruzione in qualche maniera può riprenderlo così come ci sono dei poteri di sanzionamento nel momento in cui questo l'organizzazione se ne infischia quindi non si dota di un piano anticorruzione oppure lo fa talmente male che può essere considerato come se non l'avesse fatto tutto questo per dirvi che il disegno di portata nazionale che fa ANAC nel piano nazionale poi deve essere adattato di volta in volta dalle singole organizzazioni pubbliche all'interno della propria organizzazione per uno strumento preciso che si chiama piano triennale di prevenzione della corruzione che ovviamente viene implementato viene scritto e aggiornato ogni tre anni anche perché come accennavo prima proposito ai piccoli comuni non è proprio una roba semplicissima da scrivere e adesso proviamo a capire un po' meglio come funziona o quantomeno di che cosa tratta e da cosa bisogna partire per provare a ragionare per provare a mettere su un piano triennale di prevenzione della corruzione all'interno delle organizzazioni pubbliche è un documento di natura programmatica quindi di fatto è un piano insomma deve prevedere una serie di cose è molto bella la definizione che da ANAC in qualche maniera è molto realista dice misure per la mitigazione del rischio consapevoli tutti quanti che è impossibile perché è insito nella natura umana la possibilità che qualcosa possa avvenire qualcosa di non normato qualcosa di imprevisto all'inizio però dotarsi di un piano in qualche maniera rafforza l'amministrazione nella sua capacità di prevenire il rischio corruttivo quindi è di questo che si sta parlando quali sono gli strumenti quali sono le caratteristiche che questo piano triennale deve avere per riuscire a funzionare per bene beh innanzitutto gestire la gestione del conflitto di interessi di tipologie di conflitti di interessi ce ne è decine sono ben individuate dall'ANAC e andarle a vedere tutte diventava un po' complicato quindi in qualche maniera ho glissato però forse la cosa più interessante su cui vale la pena di ragionare insieme in questo webinar che stiamo facendo questa mattina è di capire com'è che com'è che ANAC dice che è meglio sciogliere questa cosa beh innanzitutto il problema del conflitto di interessi in linea generale poi ci sono mille casi particolari però in linea generale la caratteristica specifica che ci permette di superarlo è il conclamarlo cioè nel momento in cui un dipendente pubblico si trova o pensa di trovarsi in un'ipotetica situazione di conflitto di interesse ANAC dice che ci sono mille robe che si possono fare ma la prima quella che dovrebbe avere precedenza su tutti è andare dal proprio dirigente oppure dalla propria figura responsabile e dire guardate io mi trovo in questa situazione come procedere in questo caso la figura del responsabile dell'anticorruzione può essere di grosso aiuto perché in qualche maniera dovrebbe avere più chiaro come ricondurre come sciogliere un ipotetico problema di conflitto di interesse e qualora dovesse essere davvero molto difficile da gestire o impossibile perché come dice c'è una forte comunanza oppure c'è un vincolo di legge tra chi deve prendere quella decisione e le persone su cui quella decisione ricadranno potrebbe addirittura esserci l'obbligo di astensione quindi un dipendente pubblico che nell'esempio di prima deve l'architetto comunale che nell'esempio di prima deve decidere rispetto alla possibilità di far diventare il terreno di suo cugino edificabile o meno magari in questo caso probabilmente è utile che si astenga da quella decisione in maniera tale da non cadere e la faccio prendere da qualcun altro in maniera tale da non cadere lui stesso in situazioni di conflitto di interesse un altro strumento molto carino negli ultimi anni ha dato luogo iniziative veramente molto simpatiche è la giornata della trasparenza cioè sono giornate in cui la pubblica amministrazione attua anche in maniera fisica il concetto di amministrazione aperta magari aprendo le porte ci sono delle iniziative molto belle portate davanti con le scuole e in questa occasione la pubblica amministrazione racconta com'è che funziona racconta com'è che si organizza per la trasparenza e in qualche modo questo ci riporta alle cose che abbiamo detto nelle webinar precedenti cioè che la trasparenza cioè che sia nessuno interessa della trasparenza della pubblica amministrazione quella trasparenza è fine a se stessa non serve a nulla resta o come chiamata associazione di stile ma non produce risultati veri e propri in questo caso attraverso la giornata della trasparenza diventa occasione per richiamare l'attenzione di chi sta al di fuori della pubblica amministrazione quindi in qualche maniera attrarli rispetto alle cose che vengono fatte e quindi magari dare luogo alla situazione in cui la pubblica amministrazione riesce davvero a mostrare la propria trasparenza su questo vi dico che noi l'anno scorso probabilmente lo rifacciamo anche quest'anno abbiamo organizzato la settimana dell'amministrazione aperta più o meno in coincidenza della giornata della trasparenza attraverso una settimana dedicata a iniziative di questo tipo molto orientate al governo aperto in particolare come format abbiamo portato avanti una serie di seminari online più o meno simili a quelli che stiamo facendo adesso in cui abbiamo deciso di raccontare quello che facevamo abbiamo dato visibilità alle cose più interessanti che stanno vivendo in Italia e tra l'altro ne è venuto fuori anche un portale molto carino che credo sia ancora online da qualche parte magari chiedo Gianluca di recuperare il link perché è stata un'iniziativa interessante nel senso che noi l'abbiamo lanciata e poi tutta una serie di enti pubblici che hanno deciso nell'ambito di quella settimana di organizzare iniziative di quel tipo hanno potuto caricare i propri contenuti hanno potuto dare visibilità alle proprie iniziative su questo portale comune e quindi è diventato come di uno sforzo quasi di carattere nazionale è stato molto interessante è stato molto divertente quantomeno seguire come le varie pubbliche amministrazioni si siano organizzate rispetto alle singole giornate della trasparenza e questa è la settimana collettiva della trasparenza della pubblica amministrazione altro elemento carbine che deve essere individuato nel piano triannale dell'anticorruzione è la formazione di dipendenti guardate questo è davvero un passaggio indispensabile a mio avviso in molti casi credo che i dipendenti pubblici non si trovano neanche nelle condizioni di sapere che esistano iniziative di questo tipo quindi magari non hanno neanche piena consapevolezza di quello che sta avvenendo di quello del lavoro che sta facendo ad esempio ANAC piuttosto che in enti grandi il fatto che ci sia un piano triannale della corruzione che dica una serie di cose che dia una serie di possibilità nel momento in cui ci si trovi in situazioni di dilemmi etici di sciogliere queste iniziative quindi certamente la formazione ma più che altro la sensibilizzazione e la divulgazione su questi temi è assolutamente importante e deve essere in qualche modo catturata all'interno preventivata deve essere inglobata all'interno dei piani triannali di anticorruzione tra le varie situazioni di conflitto di interesse che si possono creare come vi dicevo non le trattiamo tutte però ce n'è una che a mio avviso è particolarmente interessante è una roba piuttosto recente fino a qualche anno fa non era normata e riguarda l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro in letteratura questa cosa viene chiamata pantouflage una parola francese e ve lo spiego meglio con un esempio immaginate che c'è un immaginate che esista un dipendente pubblico che lavora con un contratto di tre anni per un aslo che deve fare lavora per gli uffici acquisti quindi la sua decisione il modo in cui fa il suo lavoro può tentare potrebbe in maniera oggettiva favorire un fornitore piuttosto che un altro prima non era contemplata la possibilità invece adesso è normata dalle leggi italiane quindi anche dal piano triennale anticorruzione dal piano nazionale la possibilità ad esempio che questo dipendente in qualche modo favorisce un fornitore piuttosto che un altro e a conclusione del suo contratto di lavoro con la pubblica amministrazione venga assunto da questo fornitore quindi in qualche maniera l'episodio corruttivo avviene dopo che il dipendente ha cessato la propria attività con quella pubblica amministrazione prima non era possibile perseguire per legge questo particolare tipo di manovra corruttiva se vogliamo chiamarla così adesso invece ha un nome si chiama appunto pantoflage e viene regolato all'interno dei vari piani di corruzione come boh ad esempio dicendo che se il dipendente pubblico del nostro caso che lavora all'ufficio acquisti non può andare a lavorare per i 3, 4, 5 anni successivi per nessuna delle aziende che ha trattato durante il suo arco di lavoro all'interno della pubblica amministrazione quindi come dire può essere un modo ancora una volta per prevenire iniziative di questo tipo però deve essere regolato all'interno del piano triennale anticorruzione dell'amministrazione altrimenti come dire ci si perde la possibilità di anzi si incappa nella possibilità di cadere in questa ipotesi di rischio corruttivo l'abbiamo detto più volte l'informatizzazione di processi tornando anche ai webinar precedenti è un momento estremamente importante di lotte di prevenzione della corruzione e lotte della corruzione perché come dire se io gestisco in maniera trasparente in maniera sempre perfettamente tracciata attraverso flussi decisionali interni che vengono rispecchiati su un sistema di gestione informatico posso avere minuto per minuto un aggiornamento su come stanno andando avanti le pratiche sulle relative motivazioni su chi se ne sta occupando con quali tempi con quali modalità e quindi come dire una sorta di fotografia più costantemente aggiornata di quello che sta avvenendo che in qualche maniera mi può schermare ad eventuali sistemi di episodi di corruzione all'altra di tutto questo c'è un documento di portata nazionale che ci aiuta anche a capire come i dipendenti pubblici si devono comportare nello svolgimento delle progettività e il codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche qui trovano spazio una serie di indicazioni ad esempio la trasparenza e la tracciabilità del processo decisionale pubblico su questo vi ricordo che c'è una video lezione dedicata a questo tema sul quarto modulo viene normata una cosa che restava più o meno ambigua finché il codice di comportamento dei dipendenti pubblici non se ne occupasse cioè i regali compensi e altre utilità in cui in questo caso c'è un limite orientativo di 150 euro che significa che se il mio Gianluca finito in questo caso lavora per una pubblica amministrazione io e lui siamo amici e in qualche maniera deve decidere di cose che riguardano anche me se la mattina ci prendiamo il caffè insieme e io gli offro un caffè non cado in situazioni di rischio corruttivo perché come dire in questo caso non supero il limite dei 150 euro ma semplicemente sto offrendo un caffè a un amico perché poi vedete qui è divertente quando invece si passa dall'assenza di norme all'eccessiva quantità di norme che regolano le transizioni regolano i rapporti tra dipendenti pubblici e soggetti esterni altra cosa che viene regolata dal codice di comportamento cioè viene trattata dal codice di comportamento sono i rapporti col pubblico in questo caso in particolare i rapporti con la stampa fino a un po' di tempo fa il dipendente pubblico doveva passare dal proprio dirigente per poter rilasciare una dichiarazione di stampa adesso non è più obbligato a farlo in questo caso come dire questa manovra dovrebbe consentire le informazioni circolare in maniera più facile e quindi sollevare quei problemi di ipotetica corruzione che potevano rieffigarsi prima nel codice di comportamento ci sono disposizioni particolari per i dirigenti che chiaramente hanno una responsabilità diversa e quindi in qualche modo è giusto che vengano trattati in modo diverso rispetto a questo documento vi volevo dire che il codice di comportamento ce n'è certamente c'è certamente il codice di comportamento previsto dalla legge che è quello approvato il documento che vi citavo prima ma poi i singoli enti si possono dotare di un proprio codice di comportamento in maniera tale da fare proprio alcune delle indicazioni che ovviamente non deve andare in contrasto con quello nazionale il ministero dell'economia e finanze ne è uno a mio avviso fatto molto bene il ministero del pubblico e di istruzione non può non averle uno proprio per i casi che dicevamo prima insomma riguarda una grande quantità di enti però non solo i ministeri anche la città di Bologna e il comune di Bologna ad esempio se ne ha due ragioni di uno proprio quindi davvero chiunque si può qualsunque pubblica amministrazione può fare proprio il tema del codice di comportamento e quindi adattarlo all'interno della propria organizzazione scusatemi vado più veloce sui due strumenti di cui volevo parlarvi uno proprio dell'anticorruzione quindi accennato anche dai piani che vedevamo prima ed è il Wister Blower e l'altro è il Foglia Wister Blower di che cosa si tratta? probabilmente ne avete sentito parlare ultimamente perché ci sono state delle novità normative in sostanza si tratta della possibilità di un dipendente pubblico di denunciare attività illecite di cui in qualche maniera il testimono viene a conoscenza all'interno della pubblica amministrazione presso quei soggetti che devono operare un controllo su quell'organizzazione un controllo su quell'amministrazione è una roba complicata è una roba difficile nel senso che nel momento in cui un dipendente pubblico denuncia quello che avviene all'interno della propria organizzazione in qualche modo si sta mettendo contro con l'organizzazione cioè sta facendo l'interesse collettivo rispetto all'interesse particolare dell'organizzazione per cui lavora nonostante questo interesse appunto sia un correttivo però potrebbe vivere male all'interno della propria amministrazione una denuncia di questo tipo quindi è molto coerente è giusto è importante che questa figura nel momento in cui qualcuno decide di conclamare di portare a visibilità fatti corruttivi che vengono all'interno della pubblica amministrazione sia tutelato la tutela del whistleblower è un elemento indispensabile di un buon piano anticorruzione e quindi è giusto che venga trattato è un tema difficile da sciogliere a mio avviso ci sono tanti esempi che si possono fare in questo caso secondo me quello che rende meglio è questo qui l'associazione libera che è un'associazione che in Italia si occupa di queste questioni di trasparenza e di anticorruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche e non solo un po' di tempo fa aveva chiesto all'Accademia della Crusca la possibilità di trovare un termine che localizzasse il concetto di whistleblower che è tipicamente inglese tipicamente anglosassone in italiano quindi la parola whistleblower che è tradotta letteralmente significa soffiatore di fischietto dare la possibilità che ci fosse una parola italiana che rappresentasse lo stesso concetto e quindi non si dovesse ricorrere a una parola inglese che in qualche maniera tiene sempre fuori un po' di persone insomma è anche difficile da pronunciare whistleblower in particolare l'Accademia della Crusca si è presa un paio di mesi per ragionare su questa cosa e alla fine ha scritto una cosa veramente molto interessante in cui dice che in Italia è molto difficile dare un'accezione positiva al termine whistleblower al termine di chi denuncia gli illeciti perché da noi l'accezione di chi fa denuncia ha sempre una connotazione negativa la delazione l'infame e è difficile riuscire a ricondurre un tema che avesse un'accezione positiva una figura come quella della whistleblower questo è estremamente indicativo rispetto alla situazione italiana di denuncia di illeciti all'interno della pubblica amministrazione per questioni storiche per questioni culturali per questioni che probabilmente è anche difficile indagare in questo webinar però volevo accennarvi queste cose per ragionarci con voi perché a mio avviso è interessante c'è una normativa italiana ovviamente che copre il tema del whistleblower la legge del 2012 c'è il codice di comportamento che abbiamo ragionato prima e ultimamente grazie a uno sforzo congiunto devo dire di tutte le forze politiche in Parlamento è stata approvata una nuova legge sul whistleblowing qualche settimana fa questa è la pagina repubblica del 15 di novembre quindi insomma veramente poco tempo fa quindi l'Italia come dire è più forte rispetto al tema del whistleblowing quindi la pubblica amministrazione se ne può dotare che cosa la pubblica amministrazione cosa le pubbliche amministrazioni le organizzazioni pubbliche devono fare rispetto al whistleblower per quello che viene detto nel piano nazionale e nel piano triennale innanzitutto dotarsi di una policy cioè un documento in cui si dice la nostra pubblica amministrazione è consapevole che esista questo istituto viene adottato all'interno dell'organizzazione e quindi in qualche modo il modo in cui un dipendente pubblico può denunciare attività di illecita all'interno di questa amministrazione è il seguente questo significa dotarsi di una piattaforma di whistleblowing cioè uno strumento che consenta di una casella di posta elettronica dedicata con un modulo dedicato piuttosto che un form online piuttosto che qualunque cosa tuteli cioè dia la possibilità ai dipendenti pubblici di denunciare quello che sta avvenendo e contestualmente tutelare la figura di chi sta denunciando se avessimo avuto tempo vi avrei volentieri parlato di questo film di che in realtà è un documentario sulla figura di Snowden che è uscito un paio di anni fa e che spiega veramente molto molto bene come dire la difficoltà che qualcuno che lavora per una pubblica amministrazione ha nel momento in cui il dilemma etico estremamente forte che subentra nel momento in cui un dipendente pubblico per sanare una situazione che lui trova sconveniente deve rivolgersi all'esterno proprio perché all'interno non esistono sistemi di questo tipo il caso di Snowden è particolare perché la sua denuncia non viene fatta all'interno della pubblica amministrazione per cui lavora in questo caso l'NSA ma viene fatta ai giornalisti anche in quel caso si può parlare di Wister Blower però con regole diverse su questo comunque ve lo lascio come spunto perché è veramente tra l'altro è anche un bel documentario si lascia guardare molto bene ultimo passaggio ultimo strumento mi prendo proprio 5 minuti finali per dirvi di una novità ne abbiamo parlato a lungo durante il corso anche nei precedenti webinar e anche qui credo ci sia certamente una video lezione dedicata nel quarto modulo e credo anche un learning object parliamo del FOIA parliamo del Freedom of Information Act che è un istituto di anglosassone che mancava nell'ordinamento italiano mancava da molti anni molte associazioni italiane che presidiano questi temi tra cui Transparence il diritto di sapere e altri ancora hanno fatto pressione sul governo perché si approvasse una legge e finalmente con la riforma Madia del 2015 anche in Italia ha trovato spazio la cosiddetta normativa del FOIA cioè l'accesso pubblico generalizzato che significa che in qualche maniera abbiamo importato dai paesi anglosassoni la possibilità che la pubblica amministrazione dia informazioni che non sono già esposte a qualunque soggetto a prescindere dal proprio interesse particolare rispetto a quell'informazione significa che chiunque in questo momento può chiedere alle pubbliche amministrazioni documenti e database già redatti e la pubblica amministrazione qualora non ci devono essere problemi di privacy qualora non ci devono essere problemi di natura legata a eventuali processi civili o penali in corso o problemi legati ovviamente come scontato dire alla sicurezza nazionale deve rendere disponibili queste informazioni è un po' di anni forse un anno abbondante quindi un po' di mesi che nell'ordinamento italiano abbiamo il FOIA quindi le stesse pubbliche amministrazioni ma anche i soggetti all'esterno delle pubbliche amministrazioni stanno imparando stanno prendendo confidenza con questo strumento quelli che hanno avuto migliori riflessi certamente sono i giornalisti e le associazioni perché sono più attive su questo tema e ci sono state delle cose molto interessanti molti articoli di giornale articoli di approfondimento estremamente interessanti che abbiamo siamo riusciti ad avere proprio grazie al FOIA grazie alla possibilità che le pubbliche amministrazioni dovesse rispondere a delle richieste fatte da giornalisti o da associazioni ce ne sono varie io uno di quelli che mi è piaciuto di più e ve lo cito anche con un interesse particolare adesso vi dico perché è questo articolo di Wired che si chiama vaccini come il FOIA ci ha permesso di costruire la mappa delle coperture e per la prima volta un giornalista ha potuto ricostruire la mappa della copertura vaccinale all'interno del territorio italiano e non solo questo articolo è molto interessante perché diventa una specie di metasticolo sul FOIA stesso cioè Riccardo Saporiti che ha scritto questo pezzo per Wired non solo realizza la mappa dei vaccini in Italia ma fa anche una sorta di feedback dal punto di vista di un giornalista su come la pubblica amministrazione risponde alle richieste di accesso FOIA quindi suscita un doppio interesse bene parlo perché Riccardo Saporiti dovrebbe essere il relatore di un prossimo webinar dedicato in questo caso a un'altra attività che stiamo portando avanti sempre lì in Sardegna come Formez che è il contesto sui dati pubblici aperti delle regioni Sardegna e credo di averne parlato anche nei precedenti webinar probabilmente un link farebbe comodo chiedo ad Antonello o a qualcun altro e quindi potrete avere modo di ascoltare Riccardo Saporiti che racconta il dato aggiornato e parla anche di come ha funzionato il FOIA all'interno delle sue inchieste per avere dati aggiornati sul FOIA recentemente il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso disponibile una serie di numeri su come le pubbliche amministrazioni italiane stanno rispondendo grazie Gianluca grazie Sabrina per i link stanno rispondendo hanno risposto negli ultimi mesi alle richieste di accesso FOIA quindi in questo caso c'è un infodata blog del Sole24ore che è il blog che preside il tema del data governance quindi in qualche maniera è anche più pronto a gestire questo genere di informazioni ha fatto questi piccoli istogrammi che ci permettano di capire come sta andando e come sta funzionando il FOIA all'interno della pubblica amministrazione italiana vi ripeto è un istituto normativo relativamente nuovo quindi come in ogni caso è giusto che i soggetti che possono soffrirne ne prendano confidenza e in qualche modo trovino il modo migliore per utilizzarlo e le stesse pubbliche amministrazioni siano consapevoli di questa nuova funzione che fino ad ora non avevano io sono è 53 quindi mi prendo giusto un altro minuto per darvi un piccolo consiglio di lettura sui temi che abbiamo trattato in quest'ultimo seminario secondo me se vi incuriosisce il tema dell'anticorruzione interna pubblica amministrazione se vi incuriosisce il tema magari anche cercare di capire come tutti questi istituti di cui abbiamo parlato tutte queste regole tutti questi strumenti vengono davvero implementati all'interno delle pubbliche amministrazioni quindi davvero quanti finora hanno adottato una politica di whistleblower quanti si sono adottati di un buon piano triennale e via discorrendo vi rimando a una cosa fatta veramente molto molto bene da ANAC che è la relazione annuale del 2017 che trovate sul sito di ANAC dove Raffaele Cantone raccontando al Parlamento quello che è avvenuto nell'ultimo anno dal punto di vista dell'autorità nazionale anticorruzione più o meno fa il punto su tutte le cose che ci siamo detti insieme oggi ci sono due versioni tra l'altro una versione breve di 3 o 4 cartelle invece una più lunga che riporta la relazione in maniera molto puntuale vi invito a darci un'occhiata perché a mio avviso è il miglior termometro possibile dell'anticorruzione in Italia in questi ultimi anni che è un'occhiata